Balasciha, 20 chilometri da Mosca. Queste case sono state vendute a persone in difficoltà, gente con redditi bassi, anziani, malati. Tuttavia i lavori non sono mai finiti. Il cantiere del complesso residenziale Europa, questo il nome, è bloccato da quattro anni. Una beffa per gli acquirenti. Uno di loro racconta, sono un veterano di guerra, ho investito tutto il mio denaro in quest'appartamento, ho fatto mutuo, ora sono rimasto senza soldi e senza casa. Sono così stanca, voglio venire a vivere in questo palazzo non terminato, mettere una stufa e vivere come una barbona, perché è questo che ora sono, una barbona, dice una pensionata. Gli edifici sono come gusci vuoti, non hanno impianti idraulici o di riscaldamento all'interno e stanno cadendo a pezzi a causa delle infiltrazioni d'acqua. Ai potenziali compratori erano state mostrate quelle che sembravano case praticamente finite, dice la nostra corrispondente. Nessuno sospettava che non fosse possibile viverci, che fosse una trappola finanziaria senza via d'uscita. La compagnia che detiene il complesso afferma che non ci sono più soldi per continuare i lavori. In una risposta scritta a Euronews, funzionari locali hanno fatto sapere che ci sarebbe un nuovo investitore pronto ad aprire il portafoglio, ma non è ancora stato firmato alcun accordo. I proprietari traditi stanno cercando in ogni modo di ottenere giustizia, sono stati davanti ai giudici, si sono rivolti al governo locale, alla Duma. L'amministrazione cittadina ogni tanto organizza riunioni su quest'area, ma fa solo questo, riunioni, nient'altro. Sono circa 500 le persone che hanno acceso un mutuo per un appartamento che non esiste. Alcuni di loro sono così poveri che hanno deciso di vivere tutti insieme in sistemazioni di fortuna, in attesa che la situazione si sblocchi. Gianna vive con un solo polmone e non può lavorare. La sua disperazione cresce di giorno in giorno. Sono finita sulla strada, non ho più la forza di andare avanti, non voglio più vivere. Ho pensato di prendere della benzina e darmi fuoco nella piazza rossa. Non posso più vivere così. Anche se ci sarà veramente un nuovo investitore, dopo l'inizio dei lavori si dovrà aspettare almeno un anno perché siano finiti e questa gente possa entrare in quelle case che stanno aspettando da troppo tempo.